Tag Oyer Carrera Oyer 02T, un orologio da polso di alta gamma con tourbillon. Il Carrera Oyer 02T è un orologio da polso presentato nel 2016 che fa parte della collezione Carrera, una linea di orologi sportivi e raffinati che Oyer ha lanciato nel 1963. Il nome Carrera deriva dalla leggendaria corsa automobilistica Carrera Panamericana, una delle più pericolose e avvincenti del mondo. Il Carrera Oyer 02T si ispira a questo spirito di avventura e sfida, offrendo un orologio che combina funzionalità e stile. Il Carrera Oyer 02T integra il tourbillon in un movimento di cronografo automatico, che permette di misurare il tempo in frazioni di secondo. Il movimento, denominato Oyer 02T, è stato sviluppato e prodotto interamente da Oyer, ed è certificato dal COSC, controllo Fisiel Swiss de Cronometre, lente che garantisce la qualità e la precisione degli orologi svizzeri. Il movimento Oyer 02T è composto da oltre 250 componenti, ha una frequenza di 4 Hz, 28.800 alternanze ora, e una riserva di carica di circa 65 ore. La sua cassa in titanio, leggera e resistente, ha un diametro di 45 mm e una forma tonda con anse smussate. La cassa ospita un quadrante nero opaco con indici e lancette luminescenti, che contrastano con il colore argento del tourbillon e dei contatori del cronografo. In questo caso il tourbillon funge anche da indicatore dei secondi, mentre i due subquadranti posti a ore 3 e 9 indicano le ore e i minuti cronografici. Sulla lunetta è posta come in ogni orologio Carrera la scala tachimetrica che permette di calcolare la velocità media percorsa in un certo lasso di tempo. Il quadrante scheletrato, protetto da un vetro zaffiro antigraffio, permette di ammirare il movimento al suo interno. Il cinturino, disponibile in vari materiali e colori, come acciaio inossidabile, gomma o pelle di coccodrillo, offre confort ed eleganza. Il Carrera Oyer 02T è resistente all'acqua fino a 100 metri. Se sei alla ricerca di un orologio da polso di alta gamma che unisca tecnologia all'avanguardia e design elegante, il Carrera Oyer 02T è la scelta perfetta per te.